si avvicinava alle viaggiatrici con modi garbati e gentili parlando un italiano perfetto le sue prede erano soprattutto le donne sole a bordo dei treni lungo l'intera tratta pugliese ma alla prima occasione utile saltava loro addosso tentando di violentarle è accaduto nei mesi scorsi su un treno intercity partito da lecce alle prime ore del mattino lui un cittadino del togo senza fissa dimora si è seduto accanto alla vittima e dopo aver tentato un approccio ha cercato di stuprarla l'uomo già denunciato alcuni anni fa per fatti analoghi è stato arrestato dagli agenti della polizia ferroviaria fondamentale è stata la testimonianza di alcune delle sue vittime che hanno riferito di essere state aggredite nel sonno le indagini sono iniziate dopo la denuncia presentata alla polizia ferroviaria da una donna di lecce che aveva subito un tentativo di violenza sessuale a bordo di un treno intercity partito da lecce e diretto a bari è stata lei a chiedere aiuto ai poliziotti e a fornire i primi dettagli utili a disegnare l'identikit dell'aggressore le ricerche non sono state facili trattandosi di un uomo senza fissa dimora ma alla fine la polfer è riuscita a risalire al presunto responsabile l'uomo è stato rintracciato alla stazione di bari ora si trova in carcere perché avrebbe potuto compiere altre aggressioni o fuggire il provvedimento di fermo è stato convalidato dal chip che ha disposto la misura cautelare la polizia ferroviaria ora invita eventuali altre vittime a denunciare casi di molestie colpo grosso a lecce maxi furto da circa 100 mila euro tra beni preziosi e armi tutto è accaduto nella notte in un appartamento di via oberdan nei pressi della pasticceria citiso e a poche centinaia di metri da piazza mazzini i ladri hanno fatto irruzione nell'abitazione si sono impossessati di armi e monili sul posto gli agenti di polizia della sezione volanti e assieme ai colleghi della scientifica che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per cercare di risalire ai topi d'appartamento tre giovani studentesse spagnole tutte di 21 anni sono state invece denunciate con l'accusa di aver messo a segno una serie di furti nei principali negozi di piazza mazzini e via trinchiese nel cuore di lecce le ragazze avevano sottratto diversi capi d'abbigliamento dalla coin e dai magazzini zara la segnalazione è arrivata al personale del reparto prevenzione crimine che ha provveduto a effettuare una perquisizione al termine degli accertamenti le tre giovani sono state denunciate per furto continuato in concorso una volante infine è intervenuta presso i magazzini coin per fermare una cittadina rumena di 34 anni che si era impossessata di un profumo chanel del valore di 65 euro anche in questo caso per la donna è scattata la denuncia ladri in azione nella notte nel mirino ancora stazioni di servizio ad agire la banda dell'alfa che la notte precedente aveva tentato di svaliggiare un negozio di abbigliamento su io dopo l'ultimo colpo gli agenti della squadra mobile hanno intercettato l'auto un alfa romeo giulietta di color amaranto nei dintorni di lecce i banditi però sono riusciti a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce come dicevamo i ladri sono giunti poco prima delle 5 della notte scorsa davanti la quate di cutrofiano sulla provinciale no a colle passo utilizzando un piede di porco i malfattori sono riusciti ad aprire la porta d'ingresso del bar tabacchi una volta all'interno hanno arraffato i soldi contenuti nel registratore di cassa circa 150 euro e altra merce tra cui diverse stecchie di sigarette e poi sono fuggiti prima dell'arrivo dei vigilanti dell'istituto fidel pol richiamati dal sistema d'allarme ricevuta la segnalazione sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di cutrofiano e i colleghi della compagnia di gallipoli al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza poco prima sulla soleto galatina la stessa banda aveva messo a segno un altro colpo ai danni dell'area di servizio buccarella situata nella zona in cui sorge l'azienda colacem i ladri hanno forzato la porta d'ingresso dell'attività commerciale annessa al distributore e si sono impossessati della cassettiera con dentro 300 euro il sistema nebbiogeno ha bloccato però i banditi mentre cercavano di aprire le slot machine per rubare le monete contenute all'interno quindi sono fuggiti rapidamente per evitare di essere colti sul fatto sul posto sono sopraggiunti pochi istanti dopo gli agenti del commissariato di gallatina ai quali sono raffidate le indagini a quanto sembra il veicolo in fuga verso lecce è stato intercettato dai colleghi della squadra mobile i quali però dopo un breve inseguimento non sono riusciti a bloccare i ladri diversa la banda che invece avrebbe colpito il distributore kamer di parabita misero il bottino dal bartabacchi sarebbero stati rubati appena 10 euro in questo caso le indagini per risalire responsabili sono state affidate ai carabinieri di casarano finisce sotto sequestro lo spazio sociale terra rossa di via francesco casavola nel quartiere rudie di lecce il decreto di sequestro preventivo eseguito ieri mattina dal personale della digos è stato disposto dall'autorità giudiziaria l'immobile era stato occupato da un gruppo di attivisti la notte tra l'undice e il 12 marzo scorso per farci un centro sociale terra rossa stando agli accertamenti effettuati dalla polizia municipale di lecce al momento tre persone risultano indagate per occupazione di terreno ed edificio pubblico si tratta di un giovane di cannole che fungeva da custode notturno e altri due giovani di casarano e oria l'immobile è stato restituito al comune di lecce dopo appena 55 giorni di occupazione il centro sociale terra rossa viene sgomberato per ordine dell'amministrazione comunale ma terra rossa resiste e questa è la reazione dell'associazione che ha occupato i locali dell'ex asilo comunale angeli di beslan lecce evidentemente dicono dal collettivo il sindaco perrone i suoi assessori sono a disagio rispetto al vaso di pandora che abbiamo scoperchiato preferiscono spacciatori e prostitute a chi invece in forma del tutto disinteressata mette in piedi un momento importante di mutualismo sociale e rigenerazione urbana la miopia del sindaco non ci fermerà siamo forti del sostegno dei cittadini che oggi ci hanno offerto la loro solidarietà anche durante le operazioni di sgombero loro sono la nostra grande conferma l'associazione politico culturale altra puglia secondo cui lo sgombero del terra rossa è un atto politicamente infame si mette completamente a disposizione dei ragazzi e delle ragazze del terra rossa per qualunque percorso decidano di intraprendere affinché lo spazio di socializzazione e riflessione che si era creato e oltre quelle mura continui a vivere il comune di lecce ci vuole divisi e indifferenti e invece ci avrà uniti e appassionati il quasi totale accerchiamento del mondo politico pugliese al presidente emiliano per indurlo a firmare in tutta fretta il patto per la puglia propinato gli da renzi sotto forma di polpetta avvelenata ci lascia francamente stupiti stupisce che illustri politici in passato accaniti fustigatori dei saccheggi governativi ai danni del sud si spendano oggi in maniera così energica per convincere il governatore ad accettare la mara minestra così com'è pena il digiuno e l'astinenza per la puglia e di pugliesi e quanto dichiara il consigliere regionale di forza italia nino marmo da costoro ci aspettavamo al contrario un press indeciso sul premier perché si addivenisse ad un confronto serio e tempestivo tra gli uffici governativi e quelli regionali per poter chiarire dubbi più che legittimi si tratta di comprendere per esempio in che modo e con quali criteri una parte delle risorse destinate dal fondo di sviluppo e coesione alle regioni del mezzogiorno sia stata utilizzata in pro deduzione e conseguentemente sottratta alla disponibilità delle stesse regioni e soprattutto di capire a fronte del secco colpo di scura inferto alla puglia sin dal 2014 come la regione possa ora far fronte ad impegni giuridicamente vincolanti da onorare dunque con i nostri soldi già assunti in favore di progetti vitali per il nostro territorio e le nostre comunità peraltro non possiamo dimenticare che quelle risorse sottratte al sud sono poi servite a renzi per imbastire varie misure di improbabile utilità economica ma di sicura natura propagandistica elettorale e poi continua il consigliere marmo facciamola finita con questa litania di un patto per il sud che nasce per il mezzogiorno e finisce infine per sciogliersi progressivamente e scandalosamente in mille rivoli con altre destinazioni abbiamo assistito alla tournée spettacolare della firma in ogni regione quando sarebbe stato più opportuno un vertice a roma con tutti i governatori per sottoscrivere solennemente un programma organico e unitario di interventi infrastrutturali per il meridione l'ultimo unico autentico piano per il sud conclude marmo rimane quello promosso da raffaele fitto ministro per le regioni e da tremonti nel 2010 un programma operativo e solidale per sostenere e rilanciare l'intero mezzogiorno riducendo lo scandaloso divario con il settentrione un patto per il sud per intenderci sottoscritto anche dal nord sarà presentato lunedì 9 maggio nella sala giunta di palazzo garafa a lecce il progetto la scuola adotta un monumento edizione 2016 alla presenza dell'assessore alla pubblica istruzione annunzia brandi della dirigente di settore anna maria perulli e dei dirigenti degli istituti scolastici interessati il progetto è nato nel 1993 da un'idea della fondazione napoli 99 per educare i giovani cittadini a rispettare il patrimonio storico artistico ambientale e a comprendere il significato delle azioni di tutela e di valorizzazione di questa immensa ed inestimabile risorsa per il nostro paese l'iniziativa muove dal riconoscimento della centralità della scuola nella formazione della cultura e dei comportamenti dei cittadini e individua nelle giovani generazioni il soggetto privilegiato per l'affermazione di una nuova consapevolezza del bene culturale pertanto la motivazione alla partecipazione al progetto scaturisce dalla convinzione che conoscere apprezzare e rivalutare il patrimonio culturale della propria città aiuta a mantenere saldo il filo della memoria storica la rete di scuole coordinata dall'assessore alla pubblica istruzione include istituti di lecce e provincia nel capoluogo salentino sono interessate le scuole primarie battisti de amicis castro mediano gli istituti comprensivi ammirato falcone stomeo zimbalo galateo frigole la scuola secondaria scanio grandi gli istituti gesù eucaristico smaldone e marcelline in provincia l'istituto comprensivo statale di diso con le sue scuole di andrano marittime castro l'istituto falcone di copertino l'istituto comprensivo statale di poggiardo con le sue scuole di spongano e vigna castrisi l'istituto comprensivo di gagliano del capo con la sua scuola di patù e l'istituto comprensivo tricase via pulia con le scuole di tricase e lucugnano sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del premio giornalistico terre del negro amaro ideato e promosso dal gal terra darneo al fine di favorire la conoscenza del territorio e delle sue eccellenze il concorso rivolto a giornalisti professionisti o pubblicisti della carta stampata radio televisione e nuovi media nazionali e internazionali premierà quei lavori articoli inchieste o reportage che meglio sono riusciti a valorizzare le peculiarità della terra darneo e in particolare la vocazione turistica dell'area e le eccellenze che caratterizzano l'area del gal la quale annovera i comuni di nardò porto cesareo leverano veglie salice guagnano campi salentina carmiano e copertino due le categorie in concorso stampa web e radio televisione incluso web tv per ognuna delle quali la giuria sceglierà un vincitore possono concorrere al premio articoli inchieste o servizi televisivi e radiofonici pubblicati messi in onda o con uscita prevista tra il primo settembre 2015 e il 31 luglio 2016 il criterio di valutazione delle opere presentate articoli servizi televisivi e radiofonici si basa sull'originalità e sui valori comunicativi sulla completezza dell'informazione e sullo stile di esposizione che meglio valorizza i prodotti materie prime trasformati o utilizzati nella ristorazione e conseguentemente le aziende gli esercizi di ristoro e le strutture ricettive situate nell'area del gal terra darneo ogni concorrente può partecipare con uno o più articoli o servizi le opere dovranno pervenire entro e non oltre il primo agosto 2016 info e regolamento sul sito web www.terradarneo.it cinque giorni per parlare di agricoltura e di politiche agricole a tutto tondo questa è la sintesi della 67esima edizione della fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia di foggia un tavolo virtuale che ha riunito produttori tecnici organizzazioni di categoria associazioni e soggetti pubblici tra gli attori principali presenti all'appuntamento tradizionalmente dedicato ai macchinari e alle attrezzature agricole federuna coma la federazione nazionale costruttori macchine per l'agricoltura che ha curato il padiglione dedicato alla meccanica agricola e organizzato workshop e attività collaterali con l'obiettivo tra gli altri di presentare la 42esima edizione di eima esposizione internazionale di macchine per l'agricoltura e il giardinaggio la partecipazione a foggia è anche propedeutica la prossima edizione di eima che si svolgerà a bologna a novembre dal 9 al 13 e quindi qui siamo venuti dagli amici pugliesi proprio per per presentare per divulgare l'informativa di eima e sperando che vengano numerosi a visitare eima la prossima edizione prosegue la preparazione del lecce in vista della sfida casalinga di domani contro la lupa castelli romani in programma alle ore 16 ieri i giallorossi hanno sostenuto una seduta di allenamento pomeridiana nonostante fosse a porte chiuse il tecnico braglia ha permesso l'accesso da parte di un gruppo di ultra i tifosi hanno invitato a gran voce i calciatori a lottare sino alla fine c'è da dire che una parte degli oltre 200 ultra ha anche contestato la squadra piuttosto animatamente ai supporter non è piaciuto soprattutto l'atteggiamento della squadra nella trasferta di benevento dove per una buona parte della gara i giallorossi sono apparsi piuttosto deconcentrati e poco motivati anche ieri si sono allenati a parte perrucchini e freddi a cui si è aggiunto anche camisa questa mattina allenamento sempre a porte chiuse sul manto erboso del comunale di martignano non sarà facile per mister braglia trovare le soluzioni migliori per decidere chi mandare in campo nella gara contro la lupa castelli con il mal d'attacco e con la difesa nuovamente in emergenza non sarà facile per mister braglia trovare le soluzioni migliori per decidere chi mandare in campo nella gara contro la lupa castelli per quanto riguarda la difesa al cibiade squalificato corsa a tre per sostituirlo ad affiancare abruzzese e cosenza che rientra dopo la squalifica ci sarebbero beduschi camisa e il solito matteo legittimo per quanto riguarda l'attacco possibile ritorno in campo dal primo minuto di davide moscardelli relegato in panchina nelle ultime due gare ufficiali per far posto alla coppia curiale caturano che però ha deluso le aspettative in ogni caso la sfida di domani sarà fondamentale il lecce deve centrare la vittoria magari con un risultato rotondo per poi proseguire sulla strada che conduce ai playoff il cui inizio è fissato per domenica 15 maggio con le sfide a eliminazione diretta dei quarti di finale e 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 j e Grazie a tutti